E' venuta giù una colonna lì di fianco, che si vede lì, venendo giù la colonna ha tirato giù il trave e si è rotto le colonne a metà. Siamo stati svegliati dal forte rumore e dalla casa, che si muoveva in tutte le direzioni, per cui non è possibile immaginare in quale prevalente. Siamo usciti e la cosa sconcertante a luce delle torce perché la corrente era andata via era che nel cortile si era aperta una fenditura nel terreno, questa dava un'idea impressionante. E poi immediatamente dopo, oppure forse era già in corso, si sentiva un ruscellamento dell'acqua molto molto forte. Si erano formate queste fuoriuscite di sabbia e l'acqua non usciva più.